Allora, finalmente siamo sulla spiaggia di Oma Beach, dove c'è stato lo sbarco americano. Purtroppo la spiaggia è stata mangiata per metà dal mare in tempesta, ma il che rende la cosa ancora più affascinante e più scenografica. Lì è il monumento, hai caduto in guerra anche quello, diciamo, occupato dalle acque. Questo è il ciccio che si guarda intorno. Che dici, che dici di Oma Beach? È una beccina, è una piccola beach. Però è tutto molto bello e scenografico. C'è anche il tizio che fa la skyscraper. Vuoi fare la foto con i piedi? Mi sembra giusto. Questa finirà sul cuore. E vabbè, siamo molto felici di essere qui. E tra un poco andiamo al cimitero americano. E si concluderà così il nostro tour della memoria. Poi ci aspetta Home Flair. Ciao!